Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione di questa commedia con Kevin Hart che non mi dispiace come un attore, anche se sembra la stessa parte e chi dice che sa recitare vuol dire che non ha mai visto nulla, non me ne abbia, anche se mi fa simpatia e tutto quello che è film prodotto da lui ma non girato da lui, ma girato da questo tizio che non conosco e racconta storia diciamo, se la vogliamo chiamare storia, perché la trama è di una stupidità soltanto che ci sono tante scenette divertenti che vorrebbero farti dimenticare che la trama non esiste ovvero Night School, scuola serale. Niente, il nostro Kevin Hart ha avuto un problema ovviamente da piccolo l'ha abbandonato tutto, cioè non ha voluto sapere più perché non riesce a comprendere le cose cioè non riesce, anche se ve lo spiegano, io da una parte lì entra, da una parte lì esce perito anche mio, ho avuto così un po' che da una parte lì entra, da una parte lì usciva quindi può essere un po' uno si può intravedere con lui, ma lui veramente c'è questa scena che lui ha gli esami e vede queste cose che volano, lui che le sposta perché si rende, non lo so, c'è queste cose mentali, queste visioni, questo non le ho avute io, quindi lui lavora in questo negozio dove vendono barbecue, perché lo sapete in America il barbecue è praticamente la cosa più sagra che c'è, no? Fare il figo che c'è il barbecue da 3.000 euro gigantesco e che ci puoi arrostire pure un maiale sano, ecco e sono dei grandi consumatori di carne anche, quindi ci si fa uno dei migliori a vendere i barbecue più costosi alla gente anche più tirchia che ci sia al mondo il proprietario gli dice anche ti lascio tutto a te, c'ha anche questa donna che lei super in carriera, proprio lui gli dice che vende i barbecue, gli dice che fa un lavorone si è indebitato di tutto se prenderci la Porsche, allora da una parte vorrebbero fare un po' la morale di queste persone che vogliono far vedere, anche il fatto che gli amici sui dicono ma lei è superiore, tu non sei a quel livello, però poi si perde tutto, c'è c'aveva qualcosa, ti insegnare, dici sai non serve avere quella macchinona, serve questo, se una persona ci tiene a te amica o donna della tua vita o amico che sia ti dovrebbe accettare quello che sei, non devi fare salti mortali per avere tutto e farti 2.000 rate, questo anche io lo insegnerei anche a certe persone che conoscono, che fanno di tutto e di più per apparire, per vedere che sono loro superiori agli altri e invece sono molto più inferiori delle persone che non fanno tutto questo, perché io non mi indebiterei mai, quindi abbiamo di fronte questo personaggio che è molto insicuro, quindi vuole far vedere che può permersi tutto quello che vuole e anche dicendo che fa sto lavoro, che non mai lo fa vedere, va qualcosa storto, ovvero quando lui si dichiara a lei, per sbaglio succede questo piccolo incendio che scoppia il negozio dove vende il barbecue, non se ne parlerà più, non si dice più un cazzo, si dice soltanto che lui è perso il lavoro e va a finire a vendere polli fritti, non da KFC, ma da pollo santo, là che cazzo è, non mi ricordo, però era un pollo religioso, lo so dire, ma che cazzo stai a dire? Quindi lui dice, un suo amico gli consigli dice, perché non fai la scuola serata, ti pigli un diploma e poi prendi un lavoro migliore, no? Come se fosse così facile, prendi un diploma e il lavoro lo trovi dietro l'angolo. Però in questo film di fantascienza è così, anche se non è di fantascienza, ma lo diventa quando vanno a dire queste cose. Quindi vediamo che lui inizia a studiare, ma non capisce, con questa maestra, un unico personaggio diciamo molto più divertente, super volgare, parolacce a go go, e abbiamo anche i suoi compagni di classe che sono proprio tagliati con l'accetta, c'è la ragazza un po' zoccolona, c'è sta la donna che viene mattrattata da marito e lei non si ribella mai, abbiamo il tizio che è fissato contro la tecnologia che pensa che succederà quello che è successo in termini con Skynet, abbiamo l'imbecille rincoglionito che non capisce mai un cazzo di quello che viene detto e abbiamo anche per completare il cerchio lo straniero messicano che prima aveva il lavoro ma l'ha perso per colpa del nostro protagonista, perché il nostro protagonista per non pagare 900 euro al ristorante si è strappato un po' troppi peli del cazzo e le ha messi in questo, oppure di patate o che cacchio era, non mi ricordo. Quindi questi personaggi non dicono un cazzo, perché già le ho visti, le ho visti in altri film, Kevin Hart fa sempre il solito imbecille, vuoi dire ma sto film allora vale la pena o no? E se sto a posto pure in Netflix? Vabbè, la gente non è che abbia questi gran gusti parola, la gente, la massa. Film passabile, vedibile, lo vedi così, ma non insegna un cazzo, perché ogni volta che sta per dirti qualcosa di importante viene buttato tutto nel cesso con le battute del cazzo e minchiate. Ci sono queste scene anche slapstick, ma niente di che, ragazzi, bevateci un'occhiata, bisogna sapere se l'avete visto o non l'avete visto. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, si va, date un'occhiata qua alla mia wishlist, se vorrei regarmi qualche film da recensire e anche vi ringrazierò. Alla prossima!